Assessore, come ogni estate si torna a parlare di parcheggi, soprattutto parcheggi a ridosso della riviera. Lo scorso anno, due anni fa, era stato possibile parcheggiare le auto lungo la strada parco. Sarà così anche quest'anno, nonostante la contrarietà di molte associazioni di ambientalisti e anche cittadini? La mia idea è quella di non far parcheggiare sulla strada parco, perché ritengo che non sia una situazione obiettivamente civile il fatto di mettere le macchine, mettendo a rischio, a pericolo anche i pedoni che ci sono. Io credo che non è sicuramente la soluzione migliore, ma nello stesso tempo mi rendo conto che noi abbiamo difficoltà di reperire parcheggi, per cui bisogna cercare di fare in modo di creare le condizioni migliori per chi vuole andare al mare, possa in qualche maniera avere la possibilità di andarci. Stiamo cercando di trovare possibili soluzioni alternative. Credo che in qualche maniera, nell'arco di qualche ora, sarò in grado di proporre una soluzione alternativa. Naturalmente, voglio dire, io di questo ne voglio discutere con le categorie produttive, ne voglio discutere all'interno della mia maggioranza, ne voglio discutere all'interno della mia giunta, però credo che sia il momento, quando si parla oggi come oggi, di mobilità sostenibile, di mobilità dolce, credo che sia importante anche dare un segnale in questo senso, per cui spero nell'arco di qualche ora di riuscire a dare soluzioni alternative. Anche per quanto riguarda i parcheggi, perché abbiamo riallacciato un rapporto con alcuni proprietari di aree di parcheggi su Pescara, sperando che in qualche maniera si mostrino disponibili nei confronti dell'amministrazione a accedere a queste aree per poter permettere il parcheggio. Busnavetta, assessore, potrebbero rappresentare una soluzione? Io credo assolutamente sì, busnavetta rappresentano una soluzione, naturalmente vanno spiegati bene ai cittadini, vanno strutturati in maniera tale che uno sa nel momento in cui prende il busnavetta che i tempi di percorrenza per arrivare lì dove deve arrivare devono essere tempi di percorrenza rispettati e che permettono di poter arrivare nei tempi giusti, quindi io penso che possano essere una soluzione importante. Grazie.